Il territorio toscano, il patrimonio culturale e artistico e la qualità dei prodotti enogastronomici della nostra regione si presentano al mondo attraverso Vetrina Toscana Lab, una giornata tra talk show e workshop interamente dedicata al successo che ha riscosso Vetrina Toscana negli ultimi tre anni. Un progetto di Union Camere Regione nato per promuovere ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti tipici del territorio. La forza di Vetrina Toscana sta anche nella capacità di fare rete con altre manifestazioni nelle città come nei piccoli borghi come la settimana della cultura in Toscana, Boccaccesca o il Desco. Sono risultati molto importanti che hanno saputo lavorare sulla specificità della Toscana, sulla formula di fare sinergia e squadra per lanciare un messaggio forte e su una strategia comunicativa che è appunto quella di lanciare questo marchio Vetrina Toscana su tutti i vari canali della comunicazione dai social alle tv alle web, anche alle web radio e anche ai magazine quelli più di settore. Ad oggi sono 908 i ristoranti aderenti a Vetrina Toscana, 298 le botteghe e 196 produttori agricoli. Nell'ultimo anno le richieste di sottoscrizione al progetto sono aumentate anche grazie al tipo di promozione scelto, l'unione tra cultura e buon cibo, con degustazioni, rassegne e cene a tema in musei o ville storiche. 480 eventi per dare un quadro completo della straordinaria ricchezza del vivere in Toscana.